Si apre con una sconfitta il campionato del Barletta, Ciro Ginestra analizza gli errori dopo l'1-0 per mano della Paganese, il tecnico Biancorosso si assume le sue responsabilità ma fa un chiaro riferimento all'atteggiamento dei suoi. Abbiamo fatto male, è giusto che abbiamo perso perché abbiamo regalato un tempo all'avversario e quando regali a questi livelli perdi, il secondo tempo abbiamo fatto discretamente ma abbiamo perso quindi dobbiamo stare muti, continuare a lavorare, testa giù, abbiamo sofferto una squadra che sapevamo, l'avevamo detto in conferenza che ci aggrediva, abbiamo regalato noi il gol perché la palla è la nostra e quindi niente, si torna a lavorare, chiede scusa a chi è venuto a vedere la partita, la colpa è dell'allenatore, la colpa è mia. Lasciamo in pace i giocatori, la martedì troviamo altre soluzioni, cerchiamo di andare avanti. La scarsa mole di gioco creata in zona offensiva riapre la caccia ad un centroavanti di spessore, il Barletta sonda curiale ma le distanze economiche sono ancora marcate, in difesa invece arriverà dal Napoli primavera il classe 2004 Daniel Susco, lettone di origini nigeriane, Ginestra rimanda alla dirigenza a qualsiasi commento sul mercato. Ma questa è una domanda che devi fare a Pavarese, non devi farla a me, io faccio l'allenatore, ho detto che alleno quelli che ho a disposizione e cerco di fare il medico quello che c'è a disposizione, oggi non ci sono riuscito quindi la colpa è mia per quello che è successo sul campo, sulle altre cose non devi chiedere a me. Doppia in casa per riscattarsi Santa Maria Cilento e Gallipoli per il Barletta, è già un esame importante. Adesso pensiamo a quella del Santa Maria che è un'altra partita difficile ma questa campione è stata tutta difficile, oggi l'ha dimostrato la Paganese e quindi dobbiamo cercare di cambiare l'atteggiamento nei primi 45 minuti e cercare di fare di più rispetto a quello che abbiamo fatto oggi perché lo abbiamo anche fatto nelle precedenti partite. Però purtroppo oggi non ci siamo riusciti, dobbiamo fare mia colpa, dobbiamo lavorare sugli errori e cercare di cambiare l'atteggiamento per cercare di fare di meglio.